Per tutte le aziende della provincia di Piacenza, così come per quelle di Bergamo, Cremona e Lodi, la sospensione dell'IVA, in scadenza tra l'8 e il 31 marzo, entra in vigore in maniera generalizzata, senza tetto di fatturato, come invece è previsto nel resto del paese. Lo ha annunciato il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli, che fin dall'inizio dell'emergenza coronavirus ha raccolto le richieste di aiuto provenienti dai territori più colpiti dall'epidemia e da più tempo interessati dalla diffusione del contagio, come quello di Piacenza. Abbiamo inserito una norma, spiega, che offre una boccata di ossigeno a tutto il sistema imprenditoriale delle province che si sono trovate più esposte e che hanno cominciato a pagare per prime anche le conseguenze economiche. Nel decreto ministeriale, relativo al mese di marzo, abbiamo stabilito che il pagamento dell'IVA sarà sospeso a tutte le imprese piacentine e non solo a quelle che fanno ricavi o compensi inferiori a 2 milioni. Si tratta di una delle azioni che, insieme alle altre presenti nel decreto, concorre a dare una prima risposta alle aziende del territorio. Come ribadito più volte dal Governo, ad aprile arriveranno nuove misure più puntuali e articolate. Si tratta di una delle azioni, conclude la De Micheli, che insieme alle altre presenti nel decreto, concorre a dare una prima risposta alle aziende del territorio. Come ribadito più volte dal Governo, ad aprile arriveranno nuove misure più puntuali e articolate, a cui stiamo lavorando, per dare continuità nel tempo e rafforzare tutte le forme di sostegno ai lavoratori e alle imprese. Grazie.